ma sono già tutti morti a vp a vp a vp eccolo lì piglialo veloce me lo piglia butta l'arma me lo piglia butta l'arma never i will put this weapon piglia una smoke piglia una smoke e dobbiamo andare su mid lo scout va bene uguale se riesci a buttarlo e tanta roba nooo dai va bene invece tipo più o meno è una cosa del genere oh 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 che casca no l'hai salvato veramente ne un po oh oh le smoke le smoke non ci so più dai 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 GRANATIENG oh l'ho registrato dai ma stava a saltar dio lupo vediamo Nar Charl Judas una risposte non lo vedi oh no Spera che devo sempre sta fermo Se stai fermo lo tiri proprio in alto Va perpendicolare al tuo corpo Ancora questo mica l'ha capito Oh oh Dai filip, dai porca madonna, perché devi perdere un così? È sinistra della porta, è però quella di B Però quel cazzo che lo pigli, Filippo Ragazzi ho buttato uno scout dentro Noi No Io ero prima volta sì ragazzi Va bene ragazzi, ci vediamo più tardi